Scatman's World non riserve praticamente vediamo cosa riusciamo a combinare contro la francia, se vinciamo questa sicuro c'è almeno un bronzo eh dai ragazzi dai ragazzi su dimostrate che siete le più forti oltre che le più belle perchè le donne italiane sono le più belle bravissimi dai dai che andiamo vai la nostra gabbia che è stanchissima la nostra gabbia però no adesso eh bravissima vai fanciulla nooo con un troppo ritardo ma non ci credo che erroraccio tipo di merda non ci voglio credere dai fioi crediamoci guarda guarda qua bella sponda francese attention occio bravissimo l'inari vai 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 fanciulla meravigliose eh la tira su siamo all'ottantottesimo lo spettro di supplementari si avvicina e anche di calci di rigore dai quelli come ha fatto a intervenire così dai vabbè vaffan cuore proprio novantesimo finisce qua si va ai supplementari si va ai tempi supplementari nooo porco due oh supplementari eh si mettere il cuore oltre l'ostacolo ragazzi e ragazze dai fanciulle dai bellissime creature ah dio cristo buono niente non riusciamo a trovare l'azione vincente e i rigori si avvicinano a paura eh meritiamo noi però ce la meritiamo noi ce la meritiamo noi no aia bravissima no e la può fare una cagata aia gol 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 incredibile gol della Francia la solita fortuna francese incredibile incredibile signori questa è la Francia che merda di squadra che nazionale di merda eh è finita ormai no eh sarà durissima sarà veramente veramente dura crediamoci ma vada 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 fanculizzatevi un gol inutile francese mi sta condannando al baratro dai fioi baratro puro occio vale come perdono tempo proprio i classici francesi del cazzo però non si smentiscono mai dio santo non avevo neanche il bidet per lavarsi ero un po' dei coglioni dai ragazzi se esiste un qualcuno non te l'affare ma vada che gol di merda che ho preso va tutto bene a loro ultra offensiva attacco totale tanto vada come perdono tempo mamma mia che brutta perché brutte persone queste francesi ma buon raga se finisce qua ci spariamo come il non so che cazzo ci spariamo però che tristezza ragazzi hanno solo perso tempo purtroppo non arrivano medaglie ci becchiamo col medagliere ragazzi non arrivano medaglie nel calcio femminile le medaglie sono le seguenti stati uniti oro ed è pesantissimo questo oro purtroppo argento Germania Francia e Inghilterra Inghilterra ragazzi ecco le medagliere l'Italia sempre in testa con 12 ori di argenti e 8 bronzi stati uniti 10 ori 9 argenti e 4 bronzi e 23 7 medaglie meno in totale poi Cina Gran Bretagna Germania Corea Australia Francia via via tutte le altre è un'olimpiade interessante adesso ragazzi con l'atletica sicuramente anche la giamaica comincia a inizierà a vincere qualche oro perché soprattutto nelle discipline di velocità è la favorita insieme purtroppo che gli stati uniti adesso comunque c'è un po' di atletiche poi in mezzo tra le discipline di campo e le discipline di corsa metto calcio maschile raga un saluto dal Comendone veneziano ciao